... Separare il destino della famiglia Riva da quello dello stabilimento, un commissariamento o un'altra forma giuridica che in tempi brevi consenta all'ILVA di lavorare nel rispetto della legge e della magistratura, seguendo le prescrizioni previste dall'AIA. Sarebbero questi i punti su cui si sta muovendo il Governo, dopo il lungo vertice di ieri con l'azienda. Enrico Letta, insieme al Vice Premier Alfano e ai Ministri dello Sviluppo e dell'Ambiente Zandonato e Orlando, ha incontrato il Presidente e l'Amministratore Delegato di Missionari dell'Azienda, Bruno Ferrante ed Enrico Bondi, dimissioni che avranno effetto dall'Assemblea dei Soci convocate il 5 giugno. Una questione intricatissima da un punto di vista tecnico cui si pone la massima attenzione, dicono fonti di Palazzo Chigi. La decisione, forse anche oggi, è il Governo potrebbe optare per un decreto. La volontà condivisa è quella di evitare la chiusura dello stabilimento. A rischio, come ha avvertito la stessa società, c'è la continuità aziendale e dunque il futuro di 40.000 persone, 20.000 dipendenti diretti in Italia e almeno altrettanti nell'Indotto. Ieri intanto sono arrivate anche le dimissioni dei capi reparto, sempre in risposta al sequestro voluto dalla magistratura per 8 miliardi e 100 milioni di euro nei confronti della Riva Fire, la cassaforte finanziaria dell'ILVA. Il Ministero dello Sviluppo aspetterà la prima settimana di giugno, quando arriverà la nuova relazione dell'ISPRA. Se le inadempienze riscontrate finora dalla legge Salva-ILVA fossero confermate, partirebbero certamente le sanzioni previste.